Ok, alziamo un attimo le mani. Bellissimi! Ok, fantastici. Hoi 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 hoi! Non mi sento? Non mi sento? Sì, vado un po' di meno, però dai, più o meno senti bravi. Siete già tutti belli. E allora, queste canzoni vanno dei ricordi, si chiama Memories. Siete già tutti? Grazie per la visione 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 Grazie per la visione